Il nostro Il nostro non è un lavoro comune, è un'arte, perché è l'arte di far star bene le persone, i nostri cari e noi stessi, un dolce mondo dove tutto parte da un chicco e poi si trasforma. Questo mondo per noi è la pasticceria. Perché mai ti ritroverai ad amarlo? Ad amarlo Credi in quel che fai, credi in quel che sei, quello che vorrai Puoi averlo, puoi averlo Credi in quel che vuoi rinunciare mai, ti ritroverai ad amarlo Eccolano, Adriano Tilghier, Niccolò, Cristian, Tegosucci e Simona Di Bellini E signori, i campioni, italiani, di pasticceria, di chiamerieri Sono loro, Vittoria e Alberto, c'erano il testimone di un'altra coppia E signori, i campioni, italiani, di pasticceria, di chiamerieri